Loro hanno disertato, annunciò trionfalmente Viola a Cosimo. Per me, e tu, e io, urlò Cosimo con uno sguardo così feroce che Viola non disse più una parola. Sir Osbert e Salvatore di San Cataldo, disertori della Marina delle rispettive maestà, passavano le giornate all'osteria, giocando ai dadi, pallidi, inquieti, cercando di sbancarsi a vicenda, mentre Viola era il culmine della scontentezza di sé e di tutto quel che la circondava. Prese il cavallo, andò verso il bosco. Cosimo era su una quercia. Lei si fermò sotto, in un prato. — Sono stanca. — Di quelli? — Di tutti voi. — Ah. — Loro mi hanno dato le più grandi prove d'amore. Cosimo sputò. — Ma non mi bastano. Cosimo alzò gli occhi su di lei. — E lei? — Tu non credi che l'amore sia dedizione assoluta. Rinuncia di sé. Era lì, sul prato, bella come mai, e la freddezza che induriva appena i suoi lineamenti e l'altero portamento della persona. Sarebbe bastato niente a scioglierli, a riaverla tra le braccia. Poteva dire qualcosa, Cosimo. Una qualsiasi cosa per venirle incontro. Poteva dirle, dimmi che cosa vuoi che faccia, sono pronto. E sarebbe stata di nuovo la felicità per lui. La felicità insieme, senza ombre. Invece disse, non ci può essere amore se non si è se stessi, con tutte le proprie forze. Viola ebbe un moto di contrarietà, che era anche un moto di stanchezza. Eppure ancora avrebbe potuto capirlo, come di fatti lo capiva. Anzi, aveva sulle labbra le parole da dire. Tu sei come io ti voglio. E subito risalire da lui. Si morse un labbro, disse, sii te stesso da solo allora. Ma allora esser me stesso non ha senso. Ecco quello che voleva dire Cosimo. Invece disse, se preferisci quei due vermi. Non ti permetto di disprezzare i miei amici, lei gridò. E ancora pensava, a me importi solo tu. È solo per te che faccio tutto quel che faccio. Solo io posso essere disprezzato. Il tuo modo di pensare. Sono una cosa sola con esso. Allora addio, Cosimo. Parto stasera stessa. Non mi vedrai più. Corse alla villa, feci i bagagli. Partì senza neppure dire niente ai luogotenenti. Fu di parola. Non tornò più a Ombrosa. Andò in Francia. E gli avvenimenti storici si accavallarono alla sua volontà. Quando ella già non desiderava che tornare. Scoppiò la rivoluzione, poi la guerra. La Marchesa, dapprima interessata al nuovo corso degli eventi, era nell'anturrage della Fayette, e migrò poi nel Belgio e di là in Inghilterra. Nella nebbia di Londra, durante i lunghi anni delle guerre contro Napoleone, sognava gli alberi d'Ombrosa. Poi si risposò con un lord interessato nella compagnia delle Indie, e si stabilì a Calcutta. Dalla sua terrazza guardava le foreste, gli alberi più strani di quelli del giardino della sua infanzia, e le pareva ogni momento di vedere Cosimo farsi largo tra le foglie. Ma era l'ombra d'una scimmia, o d'un giaguaro.